Oggi abbiamo giocato male, ci hanno un po' chiuso specialmente al secondo tempo. Loro sono bravi tutti che giocano, però vabbè, ci prendiamo questo pareggio, anche se è nato tu qua all'ultimo abbiamo preso, però va bene così lo stesso, dai, va bene. Come dice il presidente, noi puntiamo sempre a vincere, però se giochiamo come oggi non arriviamo da nessuna parte. Oggi manca uno più di qualche giocatore, però dobbiamo un po' cambiare marcia. Comunque complimenti anche agli avversari che sono veramente bravi.